Musica Nuova allerta meteo della protezione civile per la giornata di domani martedì 9 marzo 2021. Sarà allerta gialla in 7 regioni. In gran parte della penisola torna al maltempo con piogge temporali. Una perturbazione interesserà in particolare il centro-sud mentre al nord il tempo si manterrà ancora asciutto. Come si legge sul sito della protezione civile sono 7 le regioni a rischio maltempo domani martedì 9 marzo. Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Umbria e Marche. Grazie a tutti.